buongiorno e buon mar no scusate mercoledì 30 settembre 2020 un piccolo lapsus nel video di oggi parliamo della fratella ilotti new york e trani quindi una delle due compagini maschili di palacanestro di trani innanzitutto andando un po' a visitare la fanpage facebook della società bianconera per quanto riguarda le giovanili per esempio gli allenatori vi saranno gigi dali carri di 10 sempre per le giovanili della società annunciato che parteciperà al campionato under 14 elite per quanto riguarda la prima squadra che parteciperà al campionato 2020 21 di serie c silver il coach sarà gigi serrano con ampia esperienza al bus bari dove ha contribuito molto al settore giovanile che la novità più importante nel 2020 21 per la attraverso il coach giovanni bartolotta e ovviamente anche quindi attività giovanile femminile bene per questo video è tutto io sono a vostra disposizione nel canale trovate tantissimi video tutto ripeto senza costi per voi di abbonamento quant'altro quindi nessun guadagno né da parte mia nessun costo da parte vostra vi rimando quindi tantissimi video che trovate sul mio canale quando vi va potete guardate se volete mettere un bel mi piace noi ci vediamo quest'oggi se esce in tempo per l'anticipazione della puntata odiano di wwe e nexty quindi ci vediamo per questo discorso alla prossima ciao